Per i pescatori livornesi non è uno squalo bianco, quello ripreso in un video da alcune persone intente a pescare da un'imbarcazione a circa 3 miglia dalla costa labronica. Difficile capire di che esemplare si tratti, ma chi vive il mare tutti i giorni si esprime con una certa fermezza. Di squali ce ne sono, ma bianchi ci dicono non se ne sono mai visti nella zona. Avete mai visto uno squalo bianco? No. Il video l'avete visto? Sì. Vi sembra uno squalo bianco? No. Che tipo di squalo vi sembra? Un pesco. Un maco potrebbe, però dalla grossezza mi sembra un po' impossibile. È uno squalo di sicuro, ma non bianco. I cambiamenti climatici favoriscono l'ingresso nel Mediterraneo. Le acque sempre più calde sono invitanti per certe specie marine. Sì, ci sono anche i granchi blu che vengono dall'America, diciamo. Sono stati presi calamari di 7 chili, che sono difficili qui da noi, sono rari. Dalla Capitaneria di Porto di Livorno fanno sapere che è necessario avere informazioni precise prima di creare allarmismi e che attraverso un'applicazione è possibile segnalare la presenza di squali o di altri animali marini. L'app consente anche la geolocalizzazione in tempo reale dell'esemplare avvistato e dà la possibilità anche di caricare delle foto, il che rappresenta un valore aggiunto appunto per la componente scientifica e può risalire appunto all'esemplare avvistato. L'invito è quello a non creare assolutamente alcun allarmismo e a segnalare alla Guardia Costiera prontamente attraverso i contatti che sono stati diffusi nei giorni scorsi o anche attraverso il numero 1530, il numero unico di emergenza 112, ogni eventuale ulteriore avvistamento o comunque informazione utile che consenta alla Guardia Costiera di approfondire appunto circa l'avvistamento di questo esemplare. Grazie